Il romano Però il quadrato c'è proprio Bello concentrato Ti vogliamo nel ruolo Ma devo cantare a Federica però E tu leggerò Bene Non posso stare Tanto Nel meno un attimo Ho anche quella del mio medaglia Eh beh quella Eh sì Allora aiutateci voi Che il leone è stupido Che il leone va su questo Bella Facciamo prima la versione normale E così il leone si ritengo Che il leone è stupido Che il leone è pazzo Il masochista E questa è la verità Che è un'idea E così il leone sentava da tagli Che lo leone è pazzo il masochista Secondo me Jacob è il più bravo di tutti E' un po' piantone È molto giovane Però è molto brava Edward Sarà che L'Edward del film A me non piace Io sono molto legata All'Edward del libro Sui film Secondo me Viene più fuori Jacob Rispetto ad Edward Un po' Un po' Cioè Jacob Io personalmente penso che sia Nei libri un po' antipatico Ed arrogante E qui invece è proprio Le robe romantico Lui è molto bravo Edward E' molto bravo Anche lui E' un po' acervo Diciamo Io ho visto Avendolo ho visto Nei libri un film E soprattutto Anche il riba E poi abbiamo fatto Esatto Cioè Nel primo Infatti Sono trovato un po' legno Sì C'erano delle scene Dove Lui Doveva Secondo me Anche capire Lui Doveva costruirsi Ma è normale Cioè anche per noi Per me Io per lui Non parlo Certo Lo dicevamo L'altro giorno Con il nostro direttore Anche con Alessandro Il nostro direttore Doppiare Pattinson O Crystal Stewart Nel primo Ci ha dato Un livello di difficoltà Che insomma Detti dieci E Farlo in Un Ci ha dato Un livello di difficoltà Sette Adesso Fanno in Eclipse Un cinque Cioè E' sempre Però Difficile Perché Noi Comunque Lui Di voi Deveva sempre E' sempre più Pattinson Cioè E' sempre più Edward E' sempre più Nel personaggio E anche Per noi Che lo dobbiamo E' sempre più facile Che lo dobbiamo Con meno facile Cristian invece ha solo una recitazione Molto naturale Molto buttata Per comunque sia Abbastanza Abbastanza tranquilla Cioè Lei è sempre Quella Diciamo Che è rimasta Sempre uguale E a me piace Secondo me E' una Bene La giusta Spendiamo Davide Parliamo di Degra Secondo me Dovrebbe molto Giovane Credo sia più Giovene Negli altri Dovrebbe 18 Buona Espressività Secondo me Per quello Che vediamo Per quello che vediamo Per quello che vediamo No no Poi ho visto i film Che sono usciti L'ho visti Però No E' una buona espressività Ovviamente Secondo me Quella fase In cui Anche vocalmente Deve Crescere Poi parlo Perché ho sentito L'originale Come recita L'originale E secondo me Quando raggiungerà Anche una maturità vocale Riuscirà ad aggiungere Qualcosa di più Non solo a questo personaggio Ma a tutti gli altri Che faranno Perché L'espressività Ce l'ha La fisicità Vabbè Ce l'ha Ma non è perché Ha il fisico Perché comunque Si recita anche con il corpo E mi sembra che lui Riesca a fare Molto bene Secondo me Deve migliorare Un pochino Nella Recitazione Della vocalità Cioè L'espressività vocale Però Promette Cioè Promette bene Secondo me Se ha solo 18 anni Ed è così Insomma Diventerà veramente bravo